Studenti, corpo docente e mondo dell'università con le orecchie ben aperte, questa mattina nell'aula magna di scienze umane al Vecchio Ospedale, tutti pronti ad ascoltare i programmi e le parole dei quattro candidati al rettore per la successione a Ferdinando Diorio. Sono Maria Grazia Cifone, del Dipartimento di Medicina, Francesco Vegliò, giovane prorettore dalla Facoltà di Ingegneria, Angelo Luongo, già prorettore dell'Ateneo e Paola Inverardi, ex preside di Scienze. Al centro della presentazione, il ruolo fondamentale che l'università avrà nei prossimi anni, ecco allora le posizioni dei quattro candidati. Piacerebbe proprio siglare un patto Università-Città, dandogli anche un risalto, come dire, d'immagine, ma che rappresenti un impegno vero, un impegno reale, che possa consentire di portare anche all'attuazione di alcuni strumenti, tipo una consulta, insomma dei tavoli che lavorino insieme, dove ci sono rappresentanti dell'una e dell'altra parte, ma in maniera continuativa. A questo punto dobbiamo fare un passo, diciamo, ulteriore, che è quello che io dico di aumentare il livello qualitativo della nostra offerta formativa e soprattutto affrontando quello che è il tempo di raggiungimento della laurea. Io penso che il Rettore debba essere un propositore di idee, proporre delle soluzioni, ma essere sempre pronto a cambiare idea. Quindi la mia università è basata essenzialmente sulle scelte dei dipartimenti, che al mio punto di vista rappresentano il vero motore dell'Ateneo e che oggi può coniugare le necessità didattiche con quelle scientifiche. Le sfide sono quelle di costruire un percorso di sviluppo e questo sviluppo vuol dire mantenere i livelli occupazionali che abbiamo e mantenere anche la caratterizzazione di università di buona qualità che offre percorsi formativi a tutti i livelli, quindi lauree di primo livello, triennali, magistrali e dottorati. Il rapporto tradizionale tra le città universitarie e le città che ospitano con gli studenti è sempre stato un rapporto un po' separato e anche passivo. Quindi gli studenti visti come fruitori di potenziali servizi o consumatori di potenziali servizi, ma non come soggetti che invece negli anni che trascorrono in questa città effettivamente sono inseriti in un processo produttivo.